Prevemente solo per rispondere al consigliere Ciacci per le accuse che fa a rete e spero che tutte quelle che sono le voci all'interno del paese siano chiarite. Non è un fatto personale quando c'è di mezzo la violenza sulle donne, non lo è, perché altrimenti dovremmo ricordare questi problemi, questa piaga ogni novembre e se mai, se mai, se mai accade, chiedo a lei e vedremo quando ci saranno tutti gli accertamenti in tribunale, se magari chissà ci sarà un rinvio a giudizio, chissà, non lo sappiamo, se ci sarà un rinvio a giudizio, tacciate a novembre, sarà veramente il rispetto per la contro la violenza sulle donne migliore che possiate fare. Ci vedremo quando ci sarà, se ci sarà un rinvio a giudizio. Grazie eccellenza.